Salve a tutti, da Mattia Bello e Alessandro Andolfato. Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso premio nella categoria Registi Emergenti Vincenzo Crocitti 2020. Assolutamente, per noi è veramente un grande onore poter portare a casa questo prestigioso premio anche perché, come ben sappiamo, Vincenzo Crocitti negli anni 60, 70 e 80 è stato un grandissimo caratterista della commedia italiana. Sino ad arrivare a recitare con Alberto Sordi nel lungometraggio Il piccolo piccolo borghese di Mario Municelli. E poi ha vinto anche il David di Donatello nella categoria Attore Emergente o, come di recente, negli ultimi anni, ci ricordiamo benissimo dello splendido Mariano nella fiction di successo Un medico in famiglia. Ringraziamo, infatti, l'intera commissione e l'autore del concorso, Francesco Fiumarella, per aver creduto in noi e aver visto la costanza e la passione che mettiamo ogni giorno nei nostri lavori. Specialmente in un anno come questo, il 2020, che per tutta l'industria del cinema, del teatro, della musica, della danza e della letteratura è stato veramente molto, molto impegnativo. Speriamo molto presto si possa riprendere a sognare e a regalare emozioni attraverso l'arte e la cultura. A presto!